Aspetta ok, adesso devo prender tirare fuori la telecamera, metterla a caricare e riprendere l'audio mio solo con la telecamera Così ci sarà Ah ma sei inizio Serio? Perché tu metti sempre l'invincibilizzato? Dicevi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo su Garry's Mode Siamo tornati in un funny moment ma oggi non sono solo, sono in compagnia di Jodor Che c'è? Che cosa sta facendo? Sta tirando ed è questa cosa bellissima come skin, cosa sarebbe? Sono eviscerator Ah, intanto quando si calmerà, cosa dovremmo fare oggi? Sono caduto, oddio cos'è? Oddio Cos'è? Oddio Cos'è? Cos'è sta roba? Surprise motherfucker Oddio 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 dobbiamo arrivare esattamente là, quindi sono qui sto volando per far vedere come è il labirinto, sono qua sotto, oddio se tu vedi qua sotto guarda quanto è mestruo insomma del mostro, che brutta cosa, comunque dovremo fare questo labirinto e vincerà il primo che ci arriva e fine, si insomma non ha, che spaccata, vince un abbraccio da quest'arma, ah perfetto, adesso dove cavolo sto, si spawna qua, venghi, non mi lasciare questo oro, ok, ok, andiamo, ok, 3, 2, 1, vai, dove vai tu, io vado qua, ok, vai, no, no, non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, io c'ho paura, ah facciamo, aiuto, oddio ti prego non farò più quello, oddio c'ho paura veramente con questa roba, che hai messo come altro mostro, oltre gli zombie, eh ragazzi, Giada ha spoilerato, ci sono, all'interno del labirinto, per renderlo mostri, basti uso la Nihilcat, non si calda, no, si calda, non si calda, non sì, non si calda, non si calda, non so dov'è più questo labirinto, sento così un colpa, Io c'ho paura Io c'ho paura Voglio vedere quella canzoncina Oh mio dio Io sono lontano dai rumori Però mi sa che sono vicino Gli altri mostri che hai messo tu Che hai messo come altri mostri Oddio Eri tu con lei che ha sparato Sì Oddio C'ho paura Aspetta Basta Non so Bonnie Oddio C'ho un pezzo buggato Oddio stai già dall'altra parte Ok Ok Sì sono arrivato Ok Sei arrivato Io sì Davvero Che hai messo ancora C'è sei arrivato di già Che grinto è Non so No stavo scherzando non sono arrivato Ah peccato Infatti mi sembrava troppo enorme per essere già arrivato Oddio Io sto qua dentro Ho ucciso Golden Freddy Io sto trovando solo i personaggi di Five Method Freddy È il putto culo Io quello io l'ho ricevuto dietro Poi Ho tutta perduta la mappa Io Che hai messo Oddio Faffanculo Io me la ritorno indietro Io c'ho paura Oddio Io vedo già la struttura finale Io penso di essere già arrivato No Io penso di essere già arrivato No Non so Io sto girando con la minigun Oddio Chi è quel tizio? Ehm Ah 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 Ma che Che è? Muori Muori Ma Chi è questo qua? Oh Oh mio Dio Ma no Sei già arrivato Che pezzi di merda Oh Cosa vuoi fare? Oh si, no sono ceduto ma no, ma era troppo easy sta mappa, dobbiamo farne un'altra vabbè, dai vabbè, questo è va beh, facciamo durare così questo video già avuto abbastanza credo aspetta dovrei tornare indietro ok ci sono cos'è che hai detto? niente facciamo un'altra mappa oppure fanculo te headshot madafacca stavo aspettando direi che per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo funny moments con il nostro amichetto benfe io mi butto oddio oh mio dio che cazzo di kill no ti prego ti prego no 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 vediamo se ti prendo anche senza mirare no no è il club ha lo�ice ed è il club è il club è il club è il club che ma chi sei tu? oooo ti vediamo possiamo fare le momenti Grazie a tutti.